A Ravenna la settimana di azione contro il razzismo sarà anticipata al 13 marzo con il primo appuntamento di scritture di frontiera. Poi da sabato 16 marzo in piazza del popolo dalle ore 14 sarà possibile abitare la piazza. Infatti attorno ad Habitat, atelier artistico di ricerca interculturale, ruoteranno tante discipline come la scrittura, la fotografia, la danza, il teatro, il disegno. Sarà un grande laboratorio per generare un'esperienza e una rilfessione collettiva sulle relazioni umane, l'incontro, i limiti, le frontiere. Settimana di azione contro il razzismo dal 16 al 25 marzo. Giunge alla sua quindicesima edizione. Sì, è una iniziativa molto importante che viene sostenuta da tanti enti, dall'assessorato, dalla Biblioteca Class Sense, dal FAI, da Amnesty International e sicuramente la Biblioteca Class Sense è particolarmente onorata di partecipare a questa iniziativa perché all'interno della settimana contro il razzismo ci sarà anche il Festival Scritture di Frontiera 2019 dove ci saranno appunto tanti autori, tanti scrittori che presenteranno i loro libri e soprattutto parleranno delle loro esperienze proprio nell'ambito del contrasto al razzismo. Noi vogliamo abbattere il razzismo culturale perché il razzismo culturale è veramente qualcosa di terribile, qualcosa che si insinua nelle società e noi ci onoriamo di volerlo contrastare con molto impegno da parte di tutte le istituzioni, del comune di Ravenna e quindi poter tutti insieme dare a tutti maggiore opportunità. All'interno della settimana contro il razzismo si inserisce anche scritture di frontiera, di cosa si tratta? Sono 5 incontri in cui grandi esponenti intellettuali internazionali verranno a Ravenna a parlarci di questo argomento, tra questi in particolare segnaliamo Jhumpa Lairi che è un premio Pulitzer di origini indiane docente a Princeton, avremo Peter Cameron, un altro scrittore americano e diversi altri che faranno incontri relativi a diversi aspetti legati alla frontiera. Da scrittore come commenta la frase? Le parole diventano fatti. Sì, le parole sono il primo tramite perché è un modo con cui noi cominciamo a pensare diversamente alla realtà e di questo parleremo in particolare con Federico Faloppa, proprio di Amnesty International nell'ultimo incontro, perché quando cominciamo a introdurre nel nostro linguaggio un certo modo di parlare, di intendere, appunto sdoganiamo certe parole che prima erano tabù, è l'inizio proprio per cominciare a comportarsi diversamente, in questo caso per aprire un varco. Durante la conferenza ha parlato dell'importanza di rioccupare le piazze e in Piazza del Popolo ci sarà anche una tenda berbera. Sì, la settimana antirazzista dopo diversi anni e diverse edizioni torna a rioccupare pacificamente e civicamente il cuore della città, il salotto della città, cioè Piazza del Popolo. All'interno della tenda berbera che verrà allestita dalla Casa delle Culture si svolgeranno larga parte delle iniziative previste per la settimana di azioni contro il razzismo, iniziative che vengono svolte in collaborazione con diversi soggetti, dall'Università di Bologna, al FAI, ad Amnesty International e a tutte quelle associazioni che compongono la rete civica contro il razzismo che si sono date disponibili ad organizzare laboratori aperti a tutti, grandi e piccini, proprio nel segno del far cadere gli stereotipi che alimentano quotidianamente, purtroppo in questo momento più che mai, il razzismo. Altro tema importante è anche la convivialità? Assolutamente sì, perché c'è bisogno di leggerezza, perché vogliamo essere insieme e farlo nella maniera migliore, quindi in maniera ludica, aggregativa, associativa e farlo proprio sotto una tenda berbera colorata, profumata, che ci ricorda come la diversità sia una grandissima bellezza da vivere appunto in maniera conviviale. Quali sono i piatti che troveremo delle tradizioni altre? Ci sarà sicuramente un ruolo importante svolto dalla cucina marocchina, perché abbiamo la collaborazione di quattro donne marocchine che peraltro hanno recentemente preso in gestione un bar della città e che saranno le animatrici culinarie degli spazi legati appunto alla cucina, quindi tradizioni soprattutto nordafricane, magrebine e marocchine.